Certo, assolutamente, purtroppo abbiamo ottenuto un alto livello di gioco e infatti c'erano anche, si può dire, facce diverse, ci siamo divertiti, assolutamente e purtroppo, soprattutto verso la fine, abbiamo fatto alcuni errori che si potrebbero evitare però, che dire, questo è Assolutamente, sì, purtroppo magari data anche, essendo anche una squadra molto gioco, di giovani può darsi che manca anche un po' di esperienza, però il gioco c'è, assolutamente D'accordissimo e secondo me appunto sono legati anche un po' di esperienza però certamente ci lavoreremo in palestra, ci stiamo lavorando in palestra e quindi continueremo Un po' di anticipo, esatto, e magari dovuto anche al fatto del rimpianto, diciamo, del primo set, dovuto agli ultimi errori durante gli ultimi punti e ci siamo un po' demoralizzati Ecco Secondo me ci siamo un po' disuniti noi, ancora, diciamo, un po' affranti dal primo set perché non mi sembra almeno che siano aumentati l'intensità, quindi è stato proprio un fattore nostro, ecco, una cosa nostra No, 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 io assolutamente sono molto fiducioso da sempre e anche dopo ogni partita bisogna sempre pensare di fare meglio. Ci lavoreremo sicuramente in palestra, questa pausa magari ci ha fatto un po' riordinare idee e tutto, però ci lavoreremo certamente e ci riusciremo Secondo me il livello è abbastanza alla pari e comunque come quello dell'anno scorso siamo noi che secondo me dobbiamo ancora iniziare a ingranare bene Da un mio punto di vista secondo me dovremo lavorare leggermente di più sull'attacco e sul muro